Salve amici di Venezia Italia, in questo video andremo a vedere la prova orale dell'esame CELS livello A2, certificazione di italiano come lingua stagnera. Una prova del giugno 2017, la più recente che potete trovare. Una prova che dura pochi minuti. Dovete innanzitutto presentarvi, poi dialogare con l'esaminatore. Tutto all'interno della prova numero 1, poi nella prova numero 2 dovete fare un monologo su uno dei tre temi indicati. Potete scegliere uno di questi tre, non dovete fare tutti. Ma io farò tutti i temi adesso per farvi capire un po' come funziona e anche per darvi un'idea su quale delle tre opzioni potrebbe convenirvi di più nel caso vi capitasse una di queste tre. L'immagine, ad esempio, l'immagine allegata è sempre parte dell'esame, quindi potete sempre scegliere. Lui avete anche la possibilità di uscire un po' dall'immagine, dal tema. Quindi di usare l'immagine come una sorta di trampolino per dire qualcos'altro che non ha molto a che fare con l'immagine. Quindi scegliendo l'immagine è difficile non dire nulla, perché potete semplicemente commentare quello che vedete nell'immagine e fare riferimento alla vostra esperienza personale. Ma cominciamo subito. In entrambi i casi avete alcuni minuti per preparare la prova e prova numero uno, due, tre minuti di conversazione e prova numero due, un minuto e mezzo circa. Quindi cinque minuti è fatta. Nel primo caso basta presentarsi e siete già quasi, avete già quasi passato l'esame. Come ti chiami? Mi chiamo Marco, ho vent'anni, vivo a Milano da solo perché sono studente oppure con la mia famiglia perché siamo tutti di Milano. Vivo con mia madre, mio padre e mio fratello. Quando hai fatto le tue ultime vacanze dove e ti sei divertito? Ho fatto le ultime vacanze, le ho fatte ad agosto con la mia famiglia a Mykonos, in Grecia. Mi sono divertito molto, è un'isola molto bella, mi è piaciuta la cucina, ho conosciuto molti amici, ho conosciuto molte persone e ho stretto amicizia con molte persone, meglio dire. Ho preso il sole, ho fatto il bagno tutto il giorno, la sera sono andato in discoteca a ballare. È un bellissimo posto. Perché studia la lingua italiana? Solitamente ci sono due opzioni, o perché dovete lavorare in Italia e vi serve il certificato A2, oppure perché dovete studiare in Italia. Può anche essere che dobbiate sposarvi con un italiano o un'italiana e anche in questo caso potete dire mi serve perché mi sposerò. Ti piacerebbe vivere in Italia? Perché sì, mi piacerebbe perché è un bellissimo paese, mi piace la cucina italiana, mi piace la moda, oppure sono tifoso di questa squadra, oppure ho sempre sognato di vivere a Roma o a Milano perché sono grandi città, è più facile trovare lavoro, è facile trovare, fare amicizie. Quindi se vado in una città piccola può darsi che mi manchi la mia famiglia perché sono da solo, ma a Milano sarà facile trovare, cioè fare nuove amicizie. Invece nella prova numero due potete scegliere se parlare del vostro abbigliamento preferito, parlare di un oggetto che vi piace o l'immagine allegata. L'abbigliamento preferito potete dire il mio abbigliamento preferito è l'abbigliamento sportivo, mi piace mettermi una t-shirt, jeans, scarpe da ginnastica perché mi sento comodo, posso... sono tutto il giorno in giro, vado a lezione, vado a lavorare, quindi mi devo sentire comodo con me stesso, non posso andare a fare tutto quello che faccio in giacca e cravatta, non mi piace, poi non sono il tipo, mi piace... mi piace vestire in modo semplice, poi mi costa anche poco perché vestire in modo sportivo non costa come vestire in giacca e cravatta, e poi anche per lavare tutto è semplice perché metti tutto in lavatrice a 30 gradi e sei a posto, mentre se ti metti la giacca e la cravatta devi portarla poi in lavanderia perché loro lo devono pulire come si deve, non lo puoi fare da solo in lavatrice, quindi costa meno, ma poi potete anche dire così vestono tutti i miei amici, non posso andare in giacca e cravatta, anche se mi piace perché tutti vestono una t-shirt, dei jeans, quindi devo... voglio... voglio sembrare simile a loro, non voglio essere diverso. Un oggetto che ti piace potete dire il mio telefono cellulare perché lo uso per informarmi su quello che succede durante la giornata, quando sono in autobus o in treno, leggo le notizie che ci sono oppure lo uso per comunicare con la mia famiglia, i miei amici, fare videochiamate, usare i social media, ho un profilo Facebook, un profilo Twitter, un profilo Instagram e lì uso tutte queste piattaforme durante la giornata attraverso il mio cellulare, sono tifoso della Lazio e mi guardo tutte le partite su Dazon dal cellulare, quando sono in giro e non posso guardarle dalla tv, quindi come potete notare potete rispondere in modo abbastanza diverso, quindi siete liberi di dire quello che volete. Infine potete anche commentare l'immagine, qui vedete siamo nel centro di una città perché vediamo questo monumento dietro, forse siamo in Italia perché la struttura degli edifici è simile a quella italiana, vediamo molte persone in bici, anche a me piace usare la bici, la uso per andare a lavorare, per andare a lezione, oppure no io preferisco la macchina, non vado mai in bici, mi piace la bici perché mi tiene in forma, quando non posso fare sport perché non ho tempo, cerco comunque di usare la bici perché se la uso per andare ovunque è come se avessi fatto sport. Vediamo molti alberi, persone giovani e anziane che usano la bici, quindi tutti la possono usare, è comodo in Italia usare la bici perché ci sono le piste ciclabili, nel mio paese non ci sono, quindi faccio fatica ad usare la bici, preferisco usare l'autobus ad esempio, potete anche trattarle da questo punto di vista, dall'infrastruttura del vostro paese, se vi consente oppure no di usare la bici. Potete dire quando vado in una nuova città o quando vado a visitare un posto nuovo, cerco di affittare una bici perché posso vedere tutto velocemente e comodamente, potete appunto rispondere come volete, però dalla bici potete prendere spunto per dire qualsiasi cosa, potete anche parlare dell'architettura qua, se vi piace, io studierò, che ne so, architettura o archeologia, mi piace molto l'Italia perché è un paese dove puoi veramente vedere molte opere d'arte, mi piace quando vado in una nuova città, mi piace fare un selfie davanti a questi monumenti perché sono un ricordo da conservare, potete appunto dire tutto quello che volete perché l'immagine ve lo consente, ma anche semplicemente descrivere l'immagine avete già superato la prova, quindi alcune persone in bici, alcuni alberi, alcuni monumenti, il tempo soleggiato, tutti in maniche corte, quindi probabilmente siamo in estate, hanno gli occhiali da sole, quindi è soleggiato, potete rispondere tranquillamente a tutto. Vi lascio comunque in descrizione il link della playlist CILSA2 Prova Orale con altri esempi di questa prova, nel caso vi servissero e potete comunque dare un'occhiata a tutte le playlist che ci sono nel mio canale per le altre prove. Vi ringrazio della vostra attenzione, ci risentiamo nel prossimo video, ciao!